Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Dark House 92 Siamo oggi qui in compagnia del nostro team MTL Salve Buonasera Siamo in compagnia del nostro carissimo Matt Warrior Primo Nico Cabbo Ciao a tutti Poddino Buona E dietro le quinte abbiamo anche il nostro showazzo Ciao a tutti Link in descrizione del suo canale Se non ci passate e vi iscrivete siete dei bufu Comunque Tralasciando questo Questa è una parodia Ok Per chi sa cosa è successo Mi scriva sotto nei commenti Hashtag fake Ok Allora Noi vi faremo vedere Adesso Come si starta I matchmaking privati Perché io ho pagato i matchmaking privati ragazzi Voi non lo sapete ma La Epic Games mi ha contattato Non ho contattato io la Epic Games E la Epic Games mi ha contattato me E io ho pagato la Epic per farmi dare i servizi privati Ora Ragazzi come potete vedere Vi faccio vedere che io metterò il codice E il codice Che metterò è Siciliano Fake Ok Faccio accetta E adesso Startiamo la partita Con il nostro ITM Le team Dovremmo essere solo 4 Caricamento contenuto 100% Mamma mia ragazzi Eccolo qua La coda è piena Attendi Troppa gente C'è mannaggia 250 spettatori Va bene Giocatori in coda 60 Mi chiedo se mi fa entrare ragazzi Il rito Ci pensate Fake fake Ok Codice matchmaking Personalizzato Non ho supportato Oh stavo vedendo Giocatori in coda Senzato tu ho detto ma che cosa Oh ritevo anch'io Vabbè Tralasciando questo E non supportato Perché ovviamente C'è troppa gente E quindi Perché io ho dato la password Ovviamente Essendoci troppa gente Ragazzi Dovete capire anche Che a me non mi fa entrare Gli altri si però Gli altri si Va bene ragazzi Tranquilli Io ristarto di nuovo Sempre con il codice Mettete pronto ragazzi Adesso vi faccio vedere Che con il codice ragazzi Che ho inserito di nuovo Anche se ci dice Che la coda è piena Adesso ci fa entrare Guardate In attesa del server Perché io il codice Cioè Non l'ho tolto ragazzi No ma che stai dire No io il codice Non l'ho tolto È sempre quello Vi giuro È sempre quello il codice Guarda Oh Ci ha fatto entrare Nel server ragazzi Perché io comunque Il codice Non l'ho tolto Come avete visto voi Io non l'ho tolto Ma siete scemi Che sono tutti questi Dislike in questo video Oh E che cacca Stiamo scherzando qui Oh Siamo in 96 Beh giustamente ragazzi In live Cioè in live Adesso che comunque Guardate il video Siete in tanti Quindi è ovvio Che siete entrati Anche voi E siamo 96 ovviamente Allora Cerchiamo di fare Questa partita Con l'ITL team Scendendo diretti A pinnacoli Ovviamente Però ragazzi Mi raccomando Cioè non dovete Venire tutti a pinnacoli Perché se no Poi moriamo subito Ovviamente Però c'è più gusto Eh appunto Non c'è più gusto Lo dobbiamo vincere Poi scriveteci sotto I commenti ragazzi Chi è che è stato ucciso Da noi eh Appunto Bravo showazzo Scriveteci nei commenti Se qualcuno di voi È stato ucciso da noi Eh Perché è giusto così Ovviamente ricordo Tra virgolette Che questa è una parodia Vai scendiamo a pinnacoli Ragazzi Come una parodia Eh Noi siamo Il team ITL Italiano Più forte al mondo C'è Wizard Joe Quando ci vede Fa un emote Che neanche esiste Ancora nello shop Che è quella di pregare Come Gli talebani Come si chiamano Quello Quello Cioè ragazzi Qualcosa di Qualcuna di veramente Assurdo Assurdo Esiste già Quelle emote Al cielo Ma che c'entra Quello è quando Cacapoddino Ok Siamo a pinnacoli Ragazzi Io ho trovato Un pompa Che non l'ho preso Ovviamente Perché sono stupida L'ha preso lui Sono morto Ragà Sono morto Non cominciare Mi chiudo la porta Ragazzi Scrivete in chat Se l'avete ucciso Voi Scrivete Sì ma se tutti Venite qui No C'è uno dietro di me Ragà Come è dietro di te Sì No Ragà Qualcuno che viene con me No C'è manco Mi ha ammazzato lui Ok Comunque A parte tutto Io Reggiquitto Così faccio La L'outro Ragazzi Io vi ringrazio Ragazzi per aver visto Questo video Ovviamente Questo è tutto Un falso Nel senso Non sono io stesso Che sono falso Attenzione Ci mancherebbe Perché io non le faccio Ste cose Però è per far capire Quando andate in live Non parlo adesso Con i miei spettatori Con le persone Che comunque mi seguono Parlo con i piccoli Youtuber Che cercano di crescere Quando entrate in live Non prendete per il culo L'utenza Della community italiana Di youtube Perché non si fa così Ragazzi Se dovete Se dovete fare Delle cose fake Almeno fatele bene Perché comunque Se andate in live Io ho fatto questo video Facendolo ironicamente Nel senso Con tanta Ironia E E Nessuna Cioè Non l'ho fatto In modo malvagio Attenzione Perché io Non mi piace Sputtana la gente E Anche se l'ho fatto Però No comunque Tralasciando questo Ragazzi Veramente I piccoli youtuber Che anche come me Cercherono di crescere Su youtube Non crescete in quel modo Facendo quelle cose fake Perché la gente Vi mira Vi viene Vi tiene proprio di mira E poi non vi calcola Completamente più Gli iscritti Non si fanno in quel modo Ragazzi Ve lo dico io Peggiorate direttamente Il canale Perfetto Ha anche Showazzo ragione Peggiorate solamente Il canale Ragazzi Lasciate perdere Che io ho messo Quel titolo Tra virgolette Clickbait Ma è comunque Una chiappa Views Ecco Ma non è comunque Una cosa falsa Perché è una sorta Di parodia Che poi lascerò Direttamente in descrizione Scritto che è parodia Perché se mi metto Nel titolo Le views Non le faccio Quindi A sto punto Ragazzi Che vi devo dire Un bacione Dal vostro Darkhouse 92 Ringrazio il team ITL Che come sempre Sta qui con me E E ovviamente Ci alleniamo Giorno Notte Mattina Maveriggio E sera Per riuscire a diventare Un team davvero forte Tralasciando Podino Che è il nabbo del team E Nico Che si mette lo smalto Nei piedi E Matt E E Matt Che ovviamente Cerca I toni spiaggiati E comunque Tralasciando questo Da Podino Nico Matt Showazzo E il vostro Darkhouse 92 È tutto Noi ci vediamo Alla prossima ragazzi Mi raccomando Attivi sul canale Perché ne vedete Molto delle belle Un bacione Un abbraccio Dal vostro Darkhouse È tutto Bella ragazzi Yuhuuu Ciao Grazie.